Adesso guardiamoci le foto del catalogo di autunno-inverno di Simonetta! Un vero piacere per gli occhi! Un altro outfit meraviglioso! Un vestito super grazioso, da sfoggiare per risprendere nelle occasioni più importanti! Questa gonna è la cosa più simpatica che abbia mai visto! Veramente super trendy! Per i giorni più freddini, ecco una calda felpa pronta per riscaldarci! Che gioia poter indossare la primavera anche nelle stagioni più fredde! Passiamo al Leopard Style, con felpa e sneakers al Maliè! Pronti a fare un po' di rock! Con questi guanti in pelle super grintosi! Yeah!